l'ultimo origami l'ultima prova l'ultimo origami l'ultima prova ultima prova ultima domanda sei pronto a sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio in questa fiala c'è un veleno mortale una volta bevuto la morte sopraggiunge esattamente dopo 60 minuti bevilo e otterrai le ultime lettere dell'indirizzo avrai il tempo sufficiente per salvare tuo figlio ma dopo tu morirai puoi bere il veleno o andartene la decisione è tua ci deve essere un altro modo non posso uccidermi per salvare mio figlio le telecamere mi sta osservando salvare sean e morire dio perderà il padre ma almeno sarà salvo forse è la cosa giusta da fare veleno le cose stanno così se lo bevo morirò tra un'ora se non lo bevo non otterrò le ultime lettere non ho scelta devo farlo se voglio salvare la vita di sean anch'io No! Ho fatto quello che dovevo, Sean Papà verrà a prenderti Non ci riesco a rinunciare più tempo Ma che è affare del cazzo di questo cazzo di indirizzo? Ormai ci deve essere un altro Diversi indirizzi corrispondono alle lettere Dio ce le sono in tutta la città Non ho tempo per controllarli tutti Potrei avere tempo di controllare un solo indirizzo Se è quello sbagliato Persona Fai un'altra 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 Quisio Un'altra Grazie a tutti.